Ciao e bentornati a una nuova video recensione del canale JustinApple. Io sono Justin e oggi vi voglio presentare un gioco dall'equilibrio instabile. Nei momenti di noia o nelle lunghe telefonate ci si ritrova spesso a fare inavvertitamente delle costruzioni di oggetti, posizionando uno sopra l'altro ogni cosa ci si trovi a tiro, diventando di improvviso lo scopo della giornata, costruire appunto la torre pericolante più alta possibile. Probabilmente Doxplux non è un gioco che consiglierei per denomination a gioco dell'anno, ma è estremamente semplice e ricrea quella possibilità di sfogare la propria vena da ingegneri edili anche in posti come la sala di aspetto del dentista in cui altrimenti sarebbe impossibile. Lo scopo è appunto arrivare più in alto possibile, sovrapponendo container cubici di ogni fattezza, tutto scegliendo il momento giusto di sgancio dalla gru. Semplice? Sì, forse anche troppo, ma Doxplux sganciato al momento giusto sarà estremamente divertente. Vi ricordo di iscrivervi infine al nostro canale su YouTube così che possiate rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi video, di seguirci su Twitter, siamo JustinApplePod, di mettere mi piace alla pagina Facebook di JustinApple, vedete già abbiamo tantissime persone nella community e infine di seguirci in podcast, usciamo settimanalmente con approfondimenti sul mondo Apple, siamo appunto JustinApple, ci trovate su iTunes, ma se volete potete anche andare su www.justintech per ascoltare tutti i podcast del nostro network che parlano anche di altri sistemi operativi, anche di tecnologia in generale, di videogiochi, insomma trovate tantissimi podcast. Vi ringrazio e alla prossima video recensione.